Faccio un vulcano che fa un'eruzione. Ho messo dentro questa bottiglietta di Artimel del bicarbonato. Adesso ci aggiungo un po' di aceto. Bellissimo! Lascia, lascia! Aiuto! C'è un pozzo di aceto. Ehi, vieni qua vicino. E' riuscito l'esperimento? Assolutamente sì. Bravo! Vediamo ancora questo vulcano. Bello, bello. E come mai fa così? Com'è? Perché l'aceto e il bicarbonato insieme sviluppano. Reagiscono. Reagiscono. E poi quando studierai chimica. Va bene, saluto. Quando facciamo un cilio? Vedi, questa è la lava. Va bene, finito l'esperimento? Sì. E' riuscito? Assolutamente sì. Va bene. Bye bye.